Venerdì 21 maggio alle ore 16 e 30 sua eccellenza Monsignor Ciro Miniero, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, presiederà presso l'azienda Tesi nella zona industriale di Cicerale un momento di preghiera per gli operai in occasione della giornata per il lavoro diocesana. Il tema della giornata per il lavoro di quest'anno, come si legge nel messaggio dei vescovi italiani, è e al popolo stava a cuore il lavoro. Abitare una nuova stagione economico-sociale. L'evento è organizzato dall'ufficio pastorale diocesano per i problemi sociali e il lavoro, il progetto Policoro e il movimento lavoratori di azione cattolica. Il momento di preghiera verrà preceduto da un incontro dal tema Il mondo del lavoro post-covid-19. Cosa aspettarsi? Al meeting parteciperanno i segretari generali dei sindacati confederati di Salerno Arturo Sessa, CGL, Gerardo Ceres della CISL e Gerardo Pirone della UIL, il presidente di ACLI Salerno Daniele Manzolillo, il presidente di CISL Giovani Salerno Luigi Bisogno, il CEO dell'azienda Tesi Luigi Punzo e il segretario del MLAC diocesano Carmine Genua. Parteciperà all'incontro anche Confindustria Salerno con un suo delegato. Ad introdurre i lavori sarà Don Angelo Tabasco, direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Modererà l'incontro Antonio Di Marco, membro dell'equip diocesana di PSL.